Ma si vede malissimo? Ma si vede malissimo? No, guarda! Ah, wow! Come si vede bene adesso! Ciao amio! Ciak! Benvenuti in questo nuovo video! No, noi siamo del Giappi Gsb e oggi faremo un video sui dialetti in siciliano Voi dovrete... Voi dovrete... Vabbè, lo ripetete poi dovete cercare di capire cosa significa Ogni cani, egli uni in ta sua casa Ogni? Ogni cani, egli uni in ta sua casa Ogni cani, egli uni in ta sua casa In ta sua casa No, senza in, ta sua casa In ta sua casa Io non me lo ricordo più Ogni cane Ogni cani, ogni uni E gli uni in ta sua casa Ah! Ogni cani, egli uni in ta sua casa Ah, ognuno nella sua casa No, significa ogni cane Ogni cane Ogni cane E gli uni Si sente un leone nella sua casa Ahhhh Io pensavo agli uni Ma che... Ma la sicura che non ti si vede Vieni in diversi di me Poi Vieni in diversi di me Quando... Quannupiru è maturo Calisulo Calisulo Una roba del genere Io, secondo me lo sappiamo del genere Quando... Pino Quannupiru Ah, piru Non pino Quando piro è maturo Calisulo Una roba del genere ripetilo quando piru è maturo cari sulu quando piru è maturo cari sulu è tipo sulu è tipo quando il pelo è maturo no, piru il piru è l'albero del pere del pero, del pere quando le pere sono no quando il peru è maturo un piru vabbè la pera io stai facendo tutto tu io non ho guardato quando piru è maturo cari sulu quindi cosa significa? cosa vuol dire? quando la pera è matura cade da sola no, ma secondo me no quando il pera è maturo no, no magari sono due gemelline cade insieme allora mi ha conciato insieme guardate che schifo un rispetto è misurato culavi no culu porta lavi portato allora è facilissimo un rispetto è misurato culu porta lavi portato l'ave portato ok vai prova aspetta com'è che mi diceva? un rispetto un rispetto è misurato è misurato culu porta culu porta l'ave portato l'ave portato dì la tua poi io dico porta dì la tua io dico poi la mia e non me lo ricordo più un rispetto un rispetto il rispetto è rispetto è misurato con la porta secondo me il rispetto dillo un rispetto è misurato il rispetto è misurato giusto e chi lo porta cioè chi lo porta l'ha portato chi ce l'ha l'ha dato no ripeti il rispetto è misurato e non si capisce perché dillo culu porta l'ave portato chi tipo chi dà rispetto lo riceve giusto anche io lo pensavo però non so parlare neanche in italiano no non è vero sto scherzando posso farti un altro cuoricino di fai un'opera d'arte poi nudo si piglia si non si assomiglia ah nessuno si ah scusa nudo si piglia si nudo si piglia si non si assomiglia si nudo si piglia cosa si assomiglia poi nessuno si assomiglia si piglia si nessuna si 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 poi aspetta un'altra un'altra che ci sono proprio brutti ma proprio uguali non uguali ma queste cose si simigliano proprio si piglia taglia Emma ma si me lo ricordo perché ci sento poi come c'è famudighi chi mangia famudighi cioè lo so chi mangia fare molliche si mi ce l'ha lo so in realtà ma aspetta ce le ho forse si ce le ho aspetta ma a voi piace più la mollica del pane o la parte fuori a me la parte fuori di questo dipende ma a me la mollica non mi piace io mangio prima la mollica mangio allora allora attacca lo sciecco dunne vuole lupacione attacca lo sciecco dunne vuole lupacione attacca lo sciecco dunne vuole lupacione allora lupacione tipo l'asino va dove il padrone sciecco è asino quindi ripetila attacca luscecco dunne vuole lupacione attacca non sa cosa vorrebbe dire vabbè attacca attacca quindi lo porta lo lega lo lega brava il l'asino dove vuole il padrone il pastore è il padrone il padrone sei il padrone poi ma perché ti piacciono così tanto ce li ho già quelli non si è che li disegnavi confascinente non sbaglia niente confascinente non sbaglia niente vuol dire no lo dico prima stavolta come dire ragazzi allora un incapace no no lo so mi chiedo ridere vabbè lei non è che mi sa meglio di te come ti era la frase confascinente non sbaglia niente un intelligente non sbaglia niente chi non fa niente non sbaglia niente sì vabbè non fa niente errori vabbè lei è messa siciliana quindi è meglio questa è facilissima prima di parlare mastica le parole ecco questa la dico io perché è semplice prima di parlare mastica le parole bravissima ho detto c'è la soluzione no avrò di pensare parma no ah era già rinno quella di parisiliano era poi cunesce arrenesce pure questo è facile cunesce arrenesce un po' spagnolo cunesce arrenesce però la traduzione è strana chi esce no no cunesce cos'è conosce cunesce arrenesce no conoscere riuscire no no scopera tipo ridilla cunesce arrenesce conosce arrenesce chi esce chi si allontana vabbè si ritorna no no ritorna ms cunesce arrenesce tipo che ci riesce capito quindi chi qua la traduzione è tutta strana io non lo cioè se fosse per me non lo traduo in questo modo no ma dice chi si allontana dal suo ambiente viene a trovarsi in una condizione migliore c'ho tanta parole tradotte non lo so questa qui bannata non ne so io talia talia tagliata talia talia che arriva lo secco si vabbè pure lei ci arriva no no va che non lo so dillo io non dico niente madame no è brutta vai dimmela tu che io la capisco talia talia che arriva lo secco e vabbè più veloce talia talia che arriva lo secco più l'uscello 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 brava quindi talia talia guarda guarda che sei un asino no che arriva l'asino brava facciamo anche la prova così facciamo la prova la ghiaia la ghiaia la gallina vabbè la ghiaia maleducato maleducato sì sono brava hai visto speriamo che questo video vi sia piaciuto se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale lasciate tanti like e ricordati di attivare sta parte è un odio vai ricordati di attivare la campagna per ricevere tenuti i nostri nuovi video che si impatti che sei ciao